L'Italia per fortuna con la responsabilità degli italiani è riuscita a rallentare la quarta ondata, io non voglio neanche pensare di avere un Natale dove ci siano ulteriori restrizioni perché questo significa che non solo per i nostri operatori commerciali ma per noi stessi, non me la sento di fare un altro Natale come l'abbiamo fatto negli Natali scorsi, però per far questo ci vuole responsabilità, quindi vaccinazioni perché è inutile che ci giriamo intorno, l'unica leva che noi abbiamo per poterci difendere da questo virus è la vaccinazione e anche rispetto di quelle che sono le regole, mascherine, distanziamento, noi adesso andremo verso un periodo di grande affollamento anche per le festività natalizie, quindi la responsabilità delle persone è determinante, poi se il governo deciderà di fare interventi che siano degli interventi ancora più severi, io ritengo che bisogna sostenere questa linea perché la linea della prutenza e della serietà è la linea che noi abbiamo sempre condiviso.